Gentili telespettatori buona giornata. Giorgia Meloni presidente di Fratelli d'Italia dice lanceremo la campagna per il presidenzialismo e c'è un clima di grande collaborazione collega e forza Italia su questo tema. Una campagna per il presidenzialismo così nel corso della riunione dell'esecutivo nazionale Giorgia Meloni rivendica che Fratelli d'Italia è il partito più presidenzialista del panorama italiano e che ha intenzione, riferiscono fonti del partito, di lanciare nelle prossime settimane una grande campagna politica e di comunicazione per rilanciare la battaglia per una riforma in senso presidenzialista dello Stato anche coinvolgendo gli alleati di centrodestra. Cosa vuol dire? Si va ad andare verso l'elezione diretta del capo dello Stato dove sono i cittadini a eleggere il presidente della Repubblica. Quindi si va a votare, c'è una lista di persone e uno sceglie quella che gli piace di più indipendentemente dai partiti. Quindi non più i partiti a scegliere il presidente della Repubblica ma gli italiani. Ecco, non più accordi accordicchi, quello scioglie le camere, noi siamo disoccupati, dobbiamo arrivare alla pensione. Ecco, è così Giorgia Meloni ricorda che tra i prossimi appuntamenti è sul fronte del referendum su che sta proponendo e per il no è l'impiegno per individuare nel più breve tempo possibile i candidati poi nei comuni chiamati al voto in primavera. Meloni conferma la volontà di configurare Fratelli d'Italia come partito produttivista, attento alle istanze delle imprese e delle categorie economiche. Prioritaria sarà l'azione anche in questa manovra per la riduzione delle tasse e sostenere le aziende. E ha confermato la contrarietà al reddito di cittadinanza ricordando che Fratelli d'Italia è stato l'unico partito a non aver mai votato per il reddito di cittadinanza, né per istituirlo né per difenderlo, riferiscono fonti del partito. Nel corso della sua relazione all'esecutivo nazionale la presidente di Fratelli d'Italia ha parlato anche dei rapporti internazionali dello scenario che si sta delineando in Europa. Meloni, che anche è presidente dei conservatori europei, ha analizzato lo scenario generale ribadendo il ruolo centrale del gruppo ECR nel Parlamento europeo. In particolare, raccontano fonti di Fratelli d'Italia, ha confermato l'impegno a livello nazionale per rafforzare l'identità del partito Fratelli d'Italia come movimento conservatore, anche attraverso il coinvolgimento di intellettuali centri studi. Beh, sì, allora, sentivo Cecchi Paone l'altra sera che diceva a un esponente di Fratelli d'Italia che era in collegamento, è lei con il suo partito di estrema destra, e quello dice ma cosa dice estrema destra? Ma cos'è l'estrema destra? E dice c'è Berlusconi che è centrodestra, voi siete l'estrema destra. Sì, e ti sei dimenticato la destra. Tra il centrodestra e l'estrema destra c'è la destra, che sono i conservatori. In Europa li chiamano così, in Italia chiamano destra in maniera dispregiativa. Destra uguale nostalgia, nostalgia, canaglia. Nostalgici del ventennio. Ecco, quindi secondo molti, anche di intellettuali, che in maniera forzosa spingono nelle loro definizioni Fratelli d'Italia come estrema destra, come dire all'elettorato, ma voi che votate? Estrema destra? Ma siete impazziti. Ecco, questo è il messaggio che vogliono mandare. Fratelli d'Italia uguale estrema destra. In realtà è la destra, poi chiamata conservatoria, in tutta Europa, ma in Italia si utilizza ancora questa categoria per accostarla al ventennio del secolo scorso. Quindi Giorgia Meloni dice, noi siamo un movimento conservatore, basta dire destra, un movimento conservatore. Come di là si fanno chiamare i progressisti? Dice, ma dove progressano, progrediscono? Ma qual è il progresso? Progressisti? Ecco, al centro della riunione poi dicevamo anche i rapporti all'interno della coalizione di centro-destra. Giorgia Meloni ha sottolineato il clima di grande collaborazione con Lega e Forza Italia. Grande collaborazione, grande clima direi, e l'impegno per coordinare meglio l'azione a livello parlamentare e rafforzare il ruolo del centro-destra. Ma Giorgia Meloni comunque si pone già come leader del centro-destra e quindi si impone di dire che c'è grande collaborazione tra questi partiti perché un leader di una coalizione deve dire così. I panni sporchi si lavano in casa. Nel senso, io alla riunione nazionale dico che c'è grande collaborazione. Salvini e Berlusconi sono veramente due politici fantastici, poi in privato è un'altra cosa. Poi parla del Quirinale. Dice, Berlusconi è il candidato migliore e Fratelli Italia non la farà mancare, non gli farà mancare il suo sostegno convinto, dice. Come dire, visto che c'è qualcuno tipo Di Maio che va in giro a dire che lo stiamo prendendo in giro. Il nostro sostegno convinto. E voi potete crederci, se Giorgia Meloni dice che il suo sostegno a Berlusconi è convinto, non c'è dietro una presa in giro. Su altri, tipo Salvini e la Lega, non ci metterei la mano sul fuoco, ma su Fratelli d'Italia e sulla coerenza in quello che dice e in quello che fa, probabilmente ci metterei la mano sul fuoco. Su Salvini forse è meglio nascondere la mano. Intanto durante l'esecutivo nazionale avrebbe tenuto banco anche l'elezione appunto del Presidente della Repubblica. Meloni ha ribadito il suo appoggio a Silvio Berlusconi come candidato del centrodestra. In caso contrario, qualora invece si prospettassero all'orizzonte altri nomi per il Quirinale, a quel punto conterà che la coalizione resti unita su una partita così complessa. Se Berlusconi dovesse non essere disponibile per la corsa al colle, sarebbe stato il ragionamento di Meloni, è fondamentale che il centrodestra si muova compatto. L'ex ministro della gioventù, insomma raccontano, avrebbe chiesto agli alleati la stessa lealtà e compattezza nel caso in cui il Presidente di Forza Italia non dovesse essere disponibile. Già il fatto che Meloni chiede lealtà a Berlusconi e Salvini, già il fatto di chiederlo vuol dire che questa lealtà non c'è. Se no, se la lealtà ci fosse non gli sarebbe neanche venuto in mente di chiedere lealtà. È come quando uno dice a un amico, a un familiare, mi raccomando, mi raccomando, guida piano, guida piano. Se uno dice così vuol dire già che l'altro di solito non guida piano. Ecco, quindi da molti atteggiamenti si capisce il retro pensiero. Grazie a tutti e buona giornata.